Mi sono alzato e ho visto tutto bianco, quindi è una situazione molto particolare, bella e diversa. No, per me è molto raro, perché io ho vissuto a Montevideo che non c'è la neve, a Cagliari che la neve non l'ha mai vista in 15-16 anni che sono stato, quindi la sto vivendo proprio ora. È una situazione un po' diversa anche per me, ma eravamo già pronti, avevamo già previsto questa situazione e abbiamo fatto l'allenamento dentro. Io vorrei vedere la squadra giocare sempre bene, però anche loro stessi vorrebbero questa cosa. A volte non si può, secondo me abbiamo giocato meno bene, siamo stati un po' lenti, io l'ho detto anche, soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo no, però nel primo tempo siamo stati lenti nel voler arrivare da una parte all'altra. Dovevamo cercare, secondo me, un po' di più gli attaccanti, ma questo lo abbiamo lavorato e sappiamo che dobbiamo correggerlo, però poi le partite possono capitare, questo tipo di partite. È importante poi tenerle sempre presenti e migliorare, perché questo va fatto, va migliorato e penso che troveremo ancora squadre che si chiuderanno dietro, quindi dobbiamo essere pronti a questo tipo di partite. Siamo andati a campi difficili, come quello della Spezia, e campi piccoli, come quello dell'Entela, e quindi ci siamo fatti trovare pronti. Sarà una partita più o meno così, un campo piccolo dove ci sarà poco tempo da pensare e quindi dovremo essere pronti via, svegli, reattivi e pensare sempre prima che arrivi il pallone. Quello che hai detto tu, non ci sono partite facili in B, neanche in A, da nessuna parte. Sono partite che sono tutte complicate, e soprattutto in B, anche perché poi si corre molto. Forse non c'è la qualità che c'è in Serie A, ma si corre molto, quindi bisogna essere pronti. E se si trovano sul lato destro vuol dire che qualcosa in meno di noi hanno. Secondo me sono partite appunto per quello difficile, perché poi devono lottare per le squadre che sono lì sulla parte desa, per la salvezza, e quindi nel girone e ritorno si farà molto complicato, molto difficile appunto per questo.